L'atmosfera è quella delle grandi occasioni e non potrebbe essere altrimenti, vista l'eccezionalità di un evento che a Margherita di Savoia non si vedeva da tempo. Non è un caso che la parrocchia del Santissimo Salvatore fosse gremita di gente già molto tempo prima che prendesse il via allo spettacolo in canto di Natale, l'idea musicale messa in scena dal Wanted Gospel Chorus, gruppo dalla storia ormai ventennale e accompagnato dal Sud String Quartet che ha visto protagoniste le voci eccezionali di Mario Rosini e Sherrita Duran. È una grande occasione per tutti, per la cittadinanza, anche per... so che stasera c'è gente che viene da fuori, nella regione limitrofe, quindi è una giusta occasione farlo in chiesa anche per partecipare è il segno della fratellanza, il segno anche della misericordia, così come Papa Francesco invoca da più parti ed è anche l'occasione per fare gli auguri a tutto il paese, a tutta la cittadinanza. Se l'inizio dello spettacolo è un vibrante momento dedicato alle vittime del Bataclan di Parigi, già con il pezzo di apertura del concerto si entra in pieno clima natalizio con la spiritualità di My Life Is In Your Hands di Kirk Franklin e invece la splendida interpretazione di Sherrita Duran a riproporre un classico amato da tutti come White Christmas. Mario Rosini entra in scena a clima già riscaldato con il brano Io scelgo te che evidenzia ancora una volta la grande versatilità dell'artista nato a gioia dal colle e divenuto nuto al grande pubblico dopo il secondo posto ottenuto al Festival di San Drimo nel 2004. Ma anche dopo quel successo, Rosini aveva sempre messo in mostra la sua estrosità musicale, spaziando con grande naturalezza dal pop al funk, dall'hip hop alla new age, dal jazz alla musica sacra. Ospite d'onore della serata, l'attrice Claudia Coll che ha portato al numeroso pubblico del concerto la sua preziosa testimonianza di fede.